Andiamo a suonarci insieme, casa mia di Gali, vediamo la strofa, te la faccio ascoltare e poi andiamo a vedere cosa suona. La cellula ritmica è questa, un pa. Abbiamo quindi la fondamentale dell'accordo, all'inizio è un la, e mettiamo, io metto almeno, la sua ottava, molto staccata, tu, ta, uno, un ta. E poi abbiamo questo levare, un ta, in cui ribattiamo la fondamentale. Sul la lo facciamo tre volte, poi per passare al fa, usiamo la nota sol di passaggio. Sul fa lo facciamo due volte, sol, mi. Attenzione sul mi perché hai il mi a vuoto e quindi devi andare a trovare la sua ottava che è al tasto due della corda di re. Poi ritorniamo a la e mette il sol per ripartire poi di nuovo da la. Questa è la strofa, buon divertimento, ciao a presto!